Ah, che splendida giornata che è oggi! Ah, fatemi lavare le ma... Cosa? Ma quello è il friserino? No, no, vi prego! Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! Eccati questo mega pugno! Oh, no! Oh mio Dio, friserino! Oh, cavolo! Ragazzi, in questo momento lasciate like per farmi tele-trasportare e andarlo a salvare ora! Oh mio Dio! Ecco, bravissimi, state lasciando like! State lasciando like! Che cosa state lasciando? Friserino, tutto a posto? Papà, aiutami! Eh, ma che cosa state facendo, bulletti di sto cavolo? Eh, ha cominciato lui! Ci ha rubato i compiti dell'estate! Cosa? Dove scappate? Dove andate? Oh mio Dio! Friserino! Papà, mi fa male l'occhio! Oh sì, ce l'è tutto viola! Oh mio Dio, tranquillo, ecco, stai bene? Sì, sì, c'è un certo un po' di dolore lì, però! Ma purtroppo non hanno detto delle cavolate assurde, papà, non hanno ragione! Se lo so, Friserino, lo so! Tranquillo! Ma, cavolo, dobbiamo insegnarti a diventare più forte, Friserino, più potente! Hai ragione! Ma come possiamo fare? Io voglio diventare fortissimo così che la posso dare di santa ragione! Al massimo che ti puoi difendere, no? Che gliele puoi dare di santa ragione, Friserino! Eh, però la vendetta! La vendetta non serve, ok? Uffo, va bene! Ok, senti, adesso so io dove andare! Oh, dove dovremmo andare? Da un tizio! Da un tizio che sono certo che potrebbe darci una mano! Per farci teletrasportare da questo tizio che può darci una mano, ragazzi! Scrivetelo qua sotto nei commenti sushi! Tutti quanti, scrivetelo qua sotto nei commenti sushi! Fate più commenti possibili così che, appunto, possiamo teletrasportarci! Ecco, ecco, stanno scrivendo, Friserino! Stanno scrivendo? Sì, stanno scrivendo! Stanno scrivendo! Oh! Oh, eccoci qua! Oh, ok, bene! Che cosa, che posto è questo? Oh, Friserino, adesso te lo faccio vedere! Vedi? Allora, siamo qua! Oh, è chiuso, papà! No, 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 tranquillo, possiamo entrarci! Ah, è un ristorante giapponese? Sì, 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 è un ristorante giapponese! Oh, Gesù! Oh, salve! Oddio, un samurai altissimo, papà! Sì, tranquillo, Friserino! Eh, io ho chiesto, ma te! Schieto, ma in dettore, gli sto con un'indonesca! Schieto! Ma da quanto è che sai parlare il cinese? È giapponese, Friserino, mamma mia, sei proprio un ignorante! Grazie, samurai! Ma cosa gli hai detto? Gli ho detto che semplicemente devo parlare con lui perché anche se è chiuso, mi serve Susho! E chi è Susho? Quello che ci serve, Friserino! Ah, non era il samurai che ci serviva? No, grazie, samurai, vogliamo andare! Oh, grazie, grazie mille! Arigato, arigato! Ok, bene, adesso dobbiamo... Ok, tranquillo, Friserino, piano, eh! Ok, ma che sta attormendo? No, no, no! Susho! Susho! Oh, mio Dio! Ma è un... È un... È un... Sì, Friserino, è un esperto di karate! Oh, mio Dio, non ci voglio cadere! Oh, di Kung Fu, vabbè, quel che è! Oh, ciao, Susho! Come stai? Tutto bene? Tutto bene? Oh, no, c'è così che... Ok, molto bene, molto bene! Sono felice! Senti, Susho, praticamente c'è il mio figlio che deve aumentare il suo potere e mi devi dare una mano, Susho! Ok, certo, ok, adesso, Spiserino, lui ti farà vedere delle prove per vedere e capire a che punto sei messo! Papà, mi sono beccato un pugno in faccia, come sono messo secondo te? Ma no, Spiserino, di forza intendo! Ah, ok, va bene! Ecco qua! Ok, Spiserino, guarda, guarda Susho adesso come fa, eh! Adesso Susho prova a spostare il blocco di diamante! A spostare? Sì, guarda, guardalo, guardalo, vai, Susho! Oh, ho visto! Oh, mio Dio, ma come ho fatto a spostarlo così? Oh, no, ho capito, cosa nasce, va? Eh, non lo so, però è bravissimo, Susho, è davvero bravo! Ok, ora prova a spostarlo tu e rimetterlo di nuovo in questo punto qua di legno, Spiserino, vediamo se ci riesci! Ok, va bene! Non ci riesco, è impossibile! No, non ce la faccio, devo spaccarlo questo blocco con un piccolo... No, Spiserino, no, 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 e poi no! Quello è come fanno le persone normali e comuni! Noi invece dobbiamo diventare bravi e dobbiamo aumentare la nostra potenza, ok? E Susho ci darà una mano, giusto, Susho? Oh, sono comodo, e do, e do, so, ca... Eh, ok, ripeto? Ok, va bene, va bene, ok, qual è la prima prova? Eh, la prima prova è ovviamente... Eh, Susho ci darà ovviamente quello che dobbiamo fare! Devo andare in bagno, papà, devo sbrigarmi, scusami, devo andare in bagno! Oh, cavolo, Spiserino, sbrigati! Beh, è meglio comunque avere la vescica vuota! E qua il bagno, Spiserino, qua dietro? Oh, dov'è? Qua, qua a fianco, dai! Oh, ok! A sinistra, bagno dei maschi, ecco, bravo, ok! Mio Dio! Susho, dove vai? Vabbè, intanto adesso ci raggiunge... Ah! Ah! Ma, Spiserino? Aiuto! Spiserino! Oh mio Dio, di nuovo tu? Ah, mio Dio, lascia restare mio figlio, ok? Devi lasciarlo stare, hai rotto le scatole! Oh, va bene! E lui che se lo cerca! Oh! Ma cosa? E con il mio amico! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Non se lo aspettavo, non te l'ho detto! Oh, oh, oh! Annaggia, questa bullita quattro soldi! E' stupido grosso! Ehi, ma che cosa mi ammetti? Madonna, ti metto la testa dentro questa cosa e ti faccio fare gugulu 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 gugulu! Vai via via! Ah! Ah! Via! Via! Non mi aiuto! Non mi aiuto! Hai visto? Quanto sono antipatici! Sì, sono proprio dei bulletti, porca miseria! Tranquillo, Spiserino, io ti darò una mano e Susho te ne darà pure un'altra, ok? Oh, lo spero, lo spero! Susho! Dai, Susho, dove sei? Cavolo, ma stai venendo con noi! Oh, vabbè, probabilmente... Eccolo là! Oh, dai, Susho, andiamo, per favore! Tanto il tuo locale è chiuso al momento, possiamo andare, giusto? Ok, qual è la prima prova? Detto? No, questa volta non l'ho capito neanch'io! Ed eccoci qua! Che ci facciamo in sbagliaccia? Adesso lo vedrai, Spiserino! Vai, Susho! Oh, sì, come... Hai capito? No! Ok, devi andare praticamente sopra questo parkour e devi arrivare in sopra con la bandiera! Oh, ma è semplice, dai, ci provo! Vai, provaci, Spiserino! Aia, aia! Ok, già iniziamo male! Ok, uno, due... Vado, 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 vado! Bravo! No, Spiserino, devi farlo piano, altrimenti vedi che non ti funziona! Hai ragione, vado! Dai, riprova, Spiserino! Questa volta però devi provare a correre! Ci provo, ci provo! Uno, due... E poi tre... E poi quattro... Bravo, bravo, Spiserino! Arrivo! Ecco, ok! No, ce li quasi, Spiserino! Oh, io, io, vado, io, vado! Oh, io, io! Oh, io, io, io! Oh, io, io! Salto pronto? Sì, sono pronto! Ah! Ah, ah, ah! No, Spiserino! Oh, cavolo! Oh, c'è finito! Sì, io dico tu! Ma no, Zoscia, non è morto! È spawnato! Lei è spawnato! Eccoci qua, Spiserino! Oh, bello che dobbiamo attraversare semplicemente questa galleria! Eh, credo di sì! No, 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 no Cosa, Suscio? Ah, dobbiamo salirla Cosa? Sì, Spiserino, anziché entrare e infilarci, dobbiamo andarci da sopra Ma perché? Perché, logicamente, altrimenti la sfida dov'è, Spiserino? Ah, giusto Ok, dai, forza, sarà semplice, immagino Sì, questo è quello che pensi tu, papà No, Spiserino, sarà semplice, fidati, dai, forza Ah, a proposito, Suscio, se ci stanno dei problemi, delle spade, magari Oh, vai, prenditi queste catare, Spiserino Ma sembrano semplici spade Spiserino, tu devi viaggiare un po' con la fantasia, ok? Oh, ok, va bene, andiamo Ci sono, ci sono, ahia, mannaggia a me Dai, Spiserino, non puoi Mannaggia, Spiserino, non puoi morire ogni volta che vai nella lava Oh, eccomi qua Ah, finalmente, mannaggia, attento a non creparci più, ok? Ok, va bene Suscio, tu ci riesci? Oh, ok, va bene, bravo, Suscio Andiamo, Spiserino? Andiamo Ok, perfetto, continuiamo ad andare avanti Ok, Spiserino, dove sei? Oh, cos'è sto coso? Oddio, oddio È un blocco di smeraldo cattivo Dobbiamo ucciderli, Spiserino Uccidiamoli Oh, cavolo, cavolo Facciamoli fuori, facciamoli fuori Facciamoli fuori Oh, cavolo, cavolo Oddio, quanti sono? Sono tantissimi Vai, papà Gli do una mano io pure Eh, sì, sì, sì Bravo, bravo, bravo Continua, continua Fa parte dell'addestramento Perché a Suscio non gli fanno nulla? Oddio Oddio Ma cosa? Oddio Basta Oddio, li ho fatti tutti e tre insieme, Spiserino Oh, cavolo E queste cose mi faranno diventare forte? Certo, Spiserino Sono tutti esercizi che ci stanno facendo fare Suscio Frigo Ok, bene E andiamo avanti adesso Oh, finalmente Cos'era quel coso? Non lo so L'ho visto pure io per un attimo, papà Oh, mio Dio Vado io Vai, vai, vuoi andare tu? Sì, vado io prima Ok, va bene Che c'è qua? Allontanati, allontanati Oddio, oddio Che cos'era? Fermo Fermo Non lo so Oddio Che cos'è? È un golem di terra Cosa? Oh, mio Dio Oh, no Oh, no Oh, no Dobbiamo combatterlo, Spiserino Sei pronto? Sì, sono pronto Certo che Suscio tu Questi nemici non so da dove ti riesci fuori Sfighiamoci Andiamo Oddio Oh, idiota Oh, ma che l'abbiamo fatto già fuori? Oh, cavolo Ma è stato semplicissimo Sì, infatti Oh, perfetto E vai Oh, è arrivato C'è messo E non è Sfighiamoci C'è 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 qua il costruttore davvero costruttore oddio ma ci voglio credere cosa oh mio dio è bruttissimo evidentemente c'è un'infestazione un'infestazione di ragni di ragni e provengono dice da quella foresta ha detto sì oh mio dio oh cavolo si dobbiamo trovare un modo per salvare per dargli una mano assolutamente ah sì sì puoi ben dirlo suscio potrebbe far parte dell'esercizio secondo te questa cosa oh veramente oh perfetto perfetto ok hai capito no mamma mia oh gesù miserino cosa hai visto come sei messo adesso oddio sono pompato oh mio dio sta funzionando e vai diventerò sempre più forte oh sì 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 miserino dobbiamo continuare così così che appunto tu puoi aumentare la tua potenza dismisura vista d'occhio letteralmente perché uno quasi non lo hai ok andiamo ok tutto bene qua costruttore ah capisco purtroppo è stato morso e ha perso ma non è pure uno a me per favore briserino oh ma papà devi mangiare tanto altrimenti com'è che ti crescono i muscoli hai ragione briserino hai ragione ok ecco grazie mille è stato infestato comunque infetto eliminatore dobbiamo sbrigarci andiamo verso la foresta andiamo andiamo qual è quale quale sarà qua il problema briserino non lo so però fa un po paura questa foresta è piena zeppati e ragnatele si dobbiamo trovare da dove arrivano briserino e oh mio dio oddio cos'è quello è un ragno sponato a caso è vero oh mio dio aspetta briserino mi sa che qua allora in teoria non fin quando non le attacchi non è un problema va bene quindi non attaccarli ok come dobbiamo fare allora per spostarli e dobbiamo oddio oddio no 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 però aspetta questi qua invece oddio no aia 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 suscio suscio mi ci serve una mano come facciamo ciò tomate adesso che tu la mente da oh hai capito spiserino no che ha detto dobbiamo liberare la mente per non farci attaccare dai ragni liberare la mente si liberare la mente ok come fa suscio dobbiamo liberare la mente dobbiamo fare un grande respiro facci che non ci attaccheranno ok mi sembra una cavolata però ci proviamo vai ok andiamo smiserino andiamo proviamoci oh oddio non ci attaccano più oh mamma mia non ci voglio credere e vai attento però non essere troppo eccitato perché forse potrebbero ritornare ad attaccarti giusto hai ragione ok adesso quello che dobbiamo provare a fare è chiudere questa caverna perché vediamo che c'è uno spawner all'interno e se lo distruggiamo sicuramente perdiamo tutta quanta la sanità mentale ci iniziano ad attaccare il besino giusto ok bene allora dobbiamo provare a prendere i ragni i ragni come li prendi i ragni l'ho preso guarda ce l'ho in mano davvero si guarda eccolo qua oh mio dio non ci voglio credere ok adesso vedi prova a prenderne pure tu uno ok ci provo ci provo ci provo ecco l'ho preso ce l'ho bravo ok adesso portiamo lì dentro andiamo andiamo ok e poi così ecco fa oh cavolo aspetta gli sto facendo del danno oh oh si sta facendo male ok perfetto l'ho messo bene mettilo bene attento smiserino si ho messo oh cavolo sta morendo eh no eh vabbè lasciali là lasciali là non ha importanza andiamocene via ok va bene va bene ok perfetto ok andiamo a prendere gli altri andiamo a prendere gli altri ok qua eccole un altro bene mamma mia stiamo diventando bravissimi si si continuo così così continuo così ok perfetto vai papà ok dobbiamo trovare però poi un modo per richiudere di nuovo tutte le ragnatele ok perfetto ecco guarda guarda continua a spawnarla mannaggia ecco qua continua continua smiserino questo ti do una mano per il metodo di respirazione la tecnica di respirazione e tutto il resto ok perfetto ottimo ok cavolo sta uscendo ok adesso però ci serve un modo per logicamente spaccare queste ragnatele oh cavolo guarda sbiserino ma com'è che riusciamo a spaccarle così velocemente non lo so sicuramente perché siamo ormai tutt'uno con il mondo dei ragni ottimo perfetto ok aspetta che questo qua se ne sta uscendo ok lo rimetto di nuovo qua dentro ecco mannaggia se ne sta uscendo pure questo mannaggia vieni qua ragnetto ok perfetto ok perfetto adesso dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere sbrighiamoci ok chiudiamo chiudiamo hai dei blocchi no oh cavolo eh aspetta li vado a prendere subito tu ce li hai sushio ciotto matte ciotto matte ciotto matte ciotto matte cosa sushio credi veramente che questo questo sushi dovrebbe portarci a chiudere la caverna ok proviamoci anche se non credo cosa funziona sbiserino effettivamente forse potrebbe funzionare vediamo oddio no 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 però si oh cavolo no però si stanno arrampicando mannaggia me no no non dovete ah cacchio ok aspetta aspetta ok ok sta funzionando ok ok no no oddio funziona e poi funziona non cadono più guarda oddio allora veramente il sushi di sushio funziona vedi sì e voi oh cavolo ok bene ecco qua e poi continuiamo a metterli così ecco fatto ok e adesso non escono più grazie al sushi al sushi di sushio e voi sembra una cosa parecchio illegale corsetto però va bene oh grazie mille sushio tieni tutti quanti i tuoi sushi quelli che avevi che volevi oh ciotto mattelli che cosa ne sa ok va bene andiamo sbiserino e voi ok quindi adesso dovrei aver aumentato la mia forza non lo so andiamo a vedere sushio dovremmo fare qualche test secondo te ok proviamo sbiserino hai capito sbiserino devi praticamente colpire l'armatura ok va bene proviamoci provaci bravo hai visto hai rotto un'armatura di diamante oh mio dio e voi mamma mia sei il più forte della palestra sbiserino me lo sento io si è forte della palestra addirittura e dici queste cose in mia presenza sbiserino sei ancora un principiante non potrai mai battere una persona esperta come me anche si è messo su un bel po di muscoli non è vero che sono fortissimo guarda fatti sotto sbiserino sbiserino può provare a muovere quel blocco di diamante sbiserino si 3 2 1 what ahhh what ahhh what ahhh what ahhh what ahhh what ahhh wow e hai visto papà sei diventato fortissimo adesso posso andare a scoppiccere quei bulli del cavolo e vai aspetta cosa mi accade le mie braccia oh mio dio ma sei più alto di me oh ma che fai scusa oh mio dio bravissimo Sfriserino grazie sul show Ok arrivederci Andiamo Sfriserino Arrivederci samurai Andiamo andiamo Sì andiamo al parco giochi Guarda Sfriserino stanno lì in fondo sei pronto? Sì sono pronto adesso papà Vai Ehi idioti Ehi vai Ehi guarda chi arriva Volete assaggiare il mio pugno? Oddio bravo Sfriserino Ehi andate bene via Non vi fate più vedere Oh bravo Sfriserino sei diventato mortissimo Ma che cacchio fa? Cos'era quello? Nulla Era un bastone con il knockback No papà non lo era Sfriserino è cittato No 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 Per altre avventure clicca questi video che sono appena comparsi davanti ai tuoi occhi E se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale Ciao ciao Ciao